Una serie di interventi come questi organizzati da Vivi Internet al Sicuro è sicuramente fondamentale proprio perché si svolge in collaborazione con le università, tra cui l'Università di Bologna che oggi ci ospita e quindi può mettere in condizioni non soltanto il cittadino ma anche gli studenti universitari di impossessarsi in anticipo di quelle che sono le conoscenze necessarie per poter affrontare la società del futuro e del presente. Quindi ben vengono questi tipi di interventi, questi tipi di iniziative che siano sempre più diffusi.